Ciao a tutti! Oggi sono qua per parlarvi di un libro uscito recentemente per Giunti Editore che mi ha sorpreso veramente tanto, ovvero Ti ho trovato fra le stelle di Francesca Zappia. Il prezzo di copertina è di 12€ e la storia parla di Eliza, una ragazza adolescente molto introversa. Per via del suo carattere non riesce a fare amicizia con gli altri, viene sempre un po' immarginata a scuola, viene vista come la stramba. Online invece è tutta un'altra storia, perché a Eliza piace molto disegnare e ha scritto un webcomic di successo. Mare di Mostri infatti ha un grandissimo successo, ma nessuno sa chi sia la vera creatrice di questo fumetto. Eliza tiene particolarmente a mantenere, diciamo, segreta la sua identità online e conduce, diciamo, due vite parallele. Le cose però si complicheranno con l'arrivo di un nuovo ragazzo a scuola. All'inizio questo libro mi ha ricordato tanti altri destinati ai ragazzi, la tipica storia, diciamo, di due adolescenti americani. Andando avanti però con la storia, entrano in gioco tante tematiche e variabili diverse che mi sono piaciute molto. È il libro che avrei voluto leggere io da adolescente. La gran parte del libro si focalizza sul confronto fra la vita online e la vita offline, che non chiamerò vita vera, perché in realtà gli amici comunque che si fa a Eliza online non sono amici finti, sono delle vere e proprie persone comunque. E spesso è una cosa che invece si sottovaluta, che si tende a dire non è la vita vera quella che passi online. Non è sempre vero, ci sono diverse sfaccettature del tema e mi è piaciuto che si riprendessero un po' questi concetti che si riflettesse tanto sulla tematica vedendola da diversi punti di vista. Partendo da quello dei genitori di Eliza, che sono un po' genitori vecchio stampo, che non capiscono tutto, tutti i meccanismi, diciamo, dello stare online, su internet. Questo da una parte mi ha fatto molto tenerezza, perché comunque sono genitori abbastanza ingenui, che ci provano a coinvolgere Eliza nelle loro attività, amano tantissimo l'attività fisica, fare sport, fare giochi in famiglia, comunque stare insieme a contatto anche all'aria aperta. Cercano di includere Eliza, che invece è un po' un'eremita, se ne sta chiusa in camera a disegnare, a chattare con i suoi amici. Sono i tipici genitori visti dal punto di vista di un adolescente, insomma, penso che chiunque a quell'età vede i propri genitori un po' con... non dico di stacco, però ogni cosa che fanno per includere Eliza viene vissuta da lei come una sorta di punizione, quando in realtà quello che cercano di fare loro è coinvolgerla, farla sentire amata e parte della famiglia. Il modo in cui vengono rappresentati i genitori e in generale le figure adulte all'interno del libro non mi è piaciuto più di tanto. Questo perché non sono figure autoritarie, di riferimento, di ispirazione, ma vengono viste proprio come qualcosa che si frappone fra l'adolescente e i suoi sogni, fra quello che vorrebbero fare e quello che gli altri si aspettano invece da loro. Mi sarebbe piaciuto invece che ci fosse almeno una figura, se non proprio i genitori, comunque una figura adulta di riferimento, perché comunque non è vero che tutti gli adulti sono lì per mettere i bastoni fra le ruote ci sono tante persone invece che possono aiutare i giovani a crescere, a far capire loro che cosa vogliono veramente nella vita e come, che cosa fare per realizzare appunto i loro obiettivi. La tematica che forse mi è piaciuta di più all'interno di Ti ho trovato fra le stelle è l'ansia sociale. È un argomento secondo me ancora non trattato tantissimo, io almeno non ho letto tanti libri al riguardo e mi è piaciuto che se ne parlasse in un romanzo destinato ai ragazzi, soprattutto il giorno d'oggi in cui chiunque bene o male è esposto online. Eliza infatti se online è abbastanza sicura di sé, è famosa, è di successo, offline fa veramente fatica ad integrarsi, a fare amicizia, si sente a disagio in contesti sociali, ad uscire con gli altri e secondo me all'interno del libro viene spiegato bene che questo non è sbagliato perché lei è diversa lei è strana, lei non è come tutti gli altri, ma è una situazione che mette a disagio lei che fa stare male lei, da una parte vorrebbe uscire, stare con gli amici, conoscere questo nuovo ragazzo che è arrivato a scuola, dall'altra non se la sente. Il fatto di riconoscere di avere un problema e di chiedere aiuto secondo me è fondamentale, soprattutto quando si è molto giovani e non si sa bene come approcciarsi a questo tipo di situazione, si ha sempre paura di dare voce ai propri pensieri e alle proprie insicurezze. Invece nel libro mi è piaciuto che si parlasse di questa tematica e soprattutto che ci fosse qualcuno disposto ad ascoltare i problemi e ad aiutare effettivamente Eliza. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo libro è che quando si parla della propria attività online lo si fa sempre in maniera abbastanza responsabile e consapevole. Sia Eliza che Wallace, i protagonisti di questa storia sono attivi online per motivi differenti, condividono il proprio lavoro, parte della propria vita però lo fanno sempre in maniera molto responsabile, sono ben consapevoli delle informazioni che rilasciano online e sanno qual è il limite. È molto importante perché secondo me tante persone al giorno d'oggi, non soltanto giovani ma anche grandi, non sono ben consapevoli dell'esporsi online, magari condividono delle informazioni che nelle mani di alcune persone potrebbero creare dei problemi, soprattutto danneggiare la propria vita personale la propria privacy. È molto importante secondo me quando si è online, che sia su un social, un blog, un forum sapere qual è il limite, il confine. Nel complesso ho poi trovato questa storia molto sincera e diretta mi è piaciuto il modo in cui l'autrice parla di certe tematiche senza abbellirle, senza cercare di addolcire un po' quello che succede ma si parla anche di ansia sociale, depressione, in maniera diretta. Mi è piaciuto molto. La storia non è soltanto narrata in maniera scritta ma ci sono anche pezzi del webcomic di Eliza e parti di chat, una cosa che ho trovato molto bella e in particolare le illustrazioni che se non sbaglio sono proprio dell'autrice. Questi elementi secondo me rendono il libro più dinamico e scorrevole. Quando dico che questo è il romanzo che avrei voluto leggere da adolescente mi riferisco soprattutto al modo in cui si parla di ansia sociale e depressione perché secondo me è importante parlarne, parlarne senza infiocchettare il tutto. Senza frasi fatte, senza basta essere positivi e andrà tutto per il meglio. No, non è sempre così. C'è un grandissimo lavoro da fare su se stessi che spesso non si può fare da soli ma bisogna ricorrere a uno specialista come ad esempio lo psichiatra. E sono delle figure secondo me che spesso vengono sminuite all'interno dei libri che in realtà sono molto importanti. Ho sentito poi il personaggio di Eliza molto vicino a quella che era la donatella adolescente. Mi ha fatto per certi versi molta tenerezza ma anche rabbia. Si sminuiva veramente tantissimo, aveva una bassa concezione di se stessa e quantificava il suo valore in base alla sua produzione artistica che è una cosa secondo me veramente sbagliata e per fortuna viene fuori anche all'interno del libro. Nel complesso Ti ho trovato fra le stelle è stata una lettura molto piacevole e anche di intrattenimento per certi versi perché ci sono elementi ricorrenti un po' del genere. Si parla di amicizie, primi amori, ci sono dei momenti anche abbastanza buffi e teneri. È poi un libro molto interessante per le tematiche di cui vi ho parlato poco fa e ci sono diversi spunti di riflessione. È quindi una lettura che vi straconsiglio di fare soprattutto se siete adolescenti ma anche se siete un po' più cresciuti come la sottoscritta in particolare se siete abbastanza attivi online. Penso che ci siano diversi spunti che troverete interessanti e soprattutto vi potreste rivedere molto. Questa era quindi la mia opinione su Ti ho trovato fra le stelle. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se è un libro che avete letto anche voi se vi incuriosisce o meno, insomma, quali sono i vostri pareri al riguardo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!